C'è voglia di riscatto in casa impavida, o meglio di doppio riscatto. Dopo una bella striscia di vittoria, infatti, nell'ultimo turno la Sieco si è dovuta inchinare alla squadra a mazza campionato all'Olimpia Bergamo destinata alla Serie 1. Oltre che tornare a sorridere, la squadra di Nunzio Lanci vuole vendicare anche la sconfitta subita nel girone di andata da parte della prossima avversaria, Grotta Zolina. Quella dello scorso 21 ottobre fu una serata sfortunata per la Sieco in casa del sestetto marchigiano. Dolfo, ad inizio del primo set, cadde male da un muro procurandosi una distorsione che lo terrà poi lontano dal campo per diverse gare. Ogurciak, per la prima ed unica volta in questo campionato, apparve poco incisivo, così come Marx. Andò a finire che la Sieco uscita quella trasferta con una netta sconfitta per 3-0. Domenica, con tutti gli effettivi a disposizione e con il calore del pubblico locale, i ragazzi impavidi saranno di certo un osso ben più duro. Dando uno sguardo alla classifica delle due contendenti, Grotta Zolina è quarta con 28 punti, gli stessi del Catania che però è terzo. Poco più in basso, con 25, seguono Gioia del Colle e appunto Sieco rispettivamente al quinto e al sesto posto. Facile dunque immaginare che, sebbene la prossima non sia una gara decisiva per il proseguo del cammino dei Biancazzurri, rappresenta comunque un passaggio molto importante contro una delle dirette concorrenti ad aggiudicarsi uno dei tanto ambiti primi quattro posti.